Ciao a tutti! Oggi ho preparato i tortelloni ricotte e spinaci, piacciono tantissimo alla mia famiglia e sono anche molto pratici perché una volta preparati si possono congelare e utilizzarli poi al bisogno. Volete vedere la mia ricetta? Seguitemi! Iniziamo dal ripieno, lavate le vostre erbette che possono essere bietole, spinaci, poi le mettete con un pochino della loro acqua in una padella antiaderente, coprite e aspettate che si appassiscano. Dopo 5-6 minuti scoperchiate e troverete la vostra bieta così, ora fate evaporare tutta l'acqua. La nostra erbetta si è asciugata bene, adesso spengo e faccio intiepidire. Preparate il vostro impasto sulla spianatoia, quindi mettete la farina, fate una fontana al centro, rompete le uova e lavoratele prima con la farchetta e poi pian piano andate ad inserire la farina. Allargate il buco in modo da poter incorporare un po' alla volta la vostra farina. Quando all'interno si sarà formata una massa densa è arrivato il momento di usare le mani, ripulite la forchetta e via! La consistenza del vostro panetto deve essere piuttosto soda. Mettete la riposo coperto da pellicola. Prepariamo il ripieno con la ricotta, le bietole tritate a coltello finemente e tanto tanto formaggio. Aggiustate di sale, pepe e se volete anche un po' di noce moscata. Mescolate. Tirate la pasta con il mattarello oppure anche con l'aiuto di una macchinetta. Con l'aiuto di una rotella ricavate dei quadrati dal lato di circa 4-5 centimetri. Adagiate al centro un cucchiaino di ripieno e iniziate a dare a loro la piega del tortello. Ottenete un triangolo e poi piegatelo tra le dita. Così. Ne avete tanti da fare, eh? Coraggio! I tortelli sono pronti. Potete cuocerli subito in acqua bollente salata oppure anche sbianchirli e congelarli per mangiarli poi quando vorrete. Ora vi faccio vedere. Aggiungete un goccettino d'olio nell'acqua bollente salata e poi versate i vostri tortelli. Alla ripresa del bollore, tirateli su subito. Procedete a sbianchirne un po' alla volta. Scolate bene i tortelli e fateli raffreddare. Io di solito li appoggio su una teglia ricoperta di carta da forno. Una volta freddi, metteteli ben distesi nei vassoi e poi via nel freezer. Quando si saranno rappresi, li potrete raccogliere in un sacchettino. Ecco i miei tortelloni. Li avevo conservati nel freezer ma ora è arrivato il momento di mangiarli. Quindi metterò su una pentola con acqua bollente abbondante e li tufferò direttamente. Poi basteranno 5-6 minuti e saranno pronti. L'acqua bolle e tuffiamo dentro i nostri tortelloni. Muoviamo subito delicatamente per evitare che si attacchino al fondo. Un po' alla volta i tortelloni verranno a galla. Voi lasciate sobollire l'acqua per un paio di minuti e poi scolateli perché saranno pronti. Ci siamo! Prendiamo i tortelloni, scogliamoli bene e adagiamoli sul piatto da portata. Mano a mano che li sistemiamo andiamo a condire con del burro fuso, con una fogliolina di salvia e un po' di formaggio, anzi tanto formaggio. A noi piacciono conditi in modo semplice, quindi o un sughetto di pomodoro o come oggi solamente burro, salvia e parmigiano. Per muovere i tortelloni fate in questo modo, in modo che il condimento si sparga bene e prima di servirli la mia mamma mi ha insegnato di rimetterli coperti, quindi io copro con un foglio di alluminio e di rimetterli sulla pentola in ebollizione per un altro minuto, in modo che si insaporiscano meglio. Questi li porto in tavola, ma prima devo assaggiarli, che dite? Buonissimi!